Mancava solo un tassello al tabellone dei quarti di finale. Perugia aspettava la sua avversaria e è arrivata. L'Allianz Milano batte Verona nettamente 3-0 pur soffrendo perché Verona gioca una grande gara e dopo aver trovato la finale storica di Challenge Cup contro lo Zirat Ancara trova anche un posto tra le migliori otto. Nicola Pesaresi è stato l'uomo determinante in queste tre partite, lottate alla fine riuscita a ricostruire anche nei momenti difficili e adesso trovate questo grande risultato, i quarti di finale. Assolutamente sì, siamo molto contenti di essere riusciti a passare questo turno che non era facile contro una squadra che stava giocando bene e ci ha messo in difficoltà. Il risultato di stasera è un po' bugiardo perché comunque si poteva allungare la partita ma noi siamo stati in ogni set, in ogni palla sul pezzo, siamo riusciti anche quando eravamo sotto a recuperare e poi a portarci a casa dei set determinanti. Adesso è partitone contro Perugia, secondo voi tatticamente come bisogna giocare, con che testa contro una squadra che sulla carta è fortissima? Ma sicuramente rispetto a questa sera che era una gara decisiva per noi potremmo andare a giocare contro Perugia un po' più sciolti anche se sono i play-off e quindi ci saranno le emozioni ma penso che la cosa più importante sia quella di entrare in campo cercare di fare le cose meglio possibili e divertirci. È una squadra forte la vostra, la squadra di Roberto Piazza ma certo poter avere patrì tutta la stagione sarebbe stata una cosa importantissima. Quanto è importante il vostro posto? Assolutamente è importante come ogni giocatore di questa squadra sia chi gioca di più che chi gioca di meno. Quando abbiamo ritrovato Patrì abbiamo ripreso il ritmo di una squadra col sestetto normale e quindi ci siamo risollevati e ora siamo qui e ci giochiamo i play-off.